bene amici di hdblog è una sfida a4 quella che stiamo girando con un nostro super supporto infatti abbiamo il samsung galaxy s6 edge, s6 flat, iphone 6 e hc1 m9 top di gamma fino fino ad ora usciti video a 1080p su tutti e quattro proviamo il pan veloce qua proviamo una ripresa molto molto contrastata adesso proviamo a fare la nostra camminata e se non starò molto attento a come camminerò giusto per valutare la stabilizzazione dell'immagine mi guardano malissimo pensano che io sia un pazzo adesso vi farò vedere con che accrocchio sono in giro lo vedete riflesso qua nello schermo scusate nel portone entriamo nel portone ripresa la luce decisamente più fioca e qua avendo quattro telefoni che stanno girando parallelamente potete anche valutare guardando prima un video poi l'altro la qualità audio nei vari telefoni apriamo l'ascensore della paura eccomi qua guardate ciao sono veramente ridicolo però per valutare le performance della videocamera direi che ci sta non sono tutti perfettamente sullo stesso asse quindi magari la ripresa non sarà proprio perfettamente uguale su tutti i quattro telefoni ma è stata fatta nelle medesime condizioni di illuminazione ovvero un buio quasi pesto in questo ascensore adesso aspettiamo che si aprano le porte per venire in base alla luce e valutare la velocità di adattamento alla luce la luminosità colore fuoco e poi proveremo uno alla volta perché non ho quattro mani lo zoom sulle torri pelli ci siamo qua resta per aprire l'ascensore pronti alla luce eccola quindi valutate voi l'adattamento alla luminosità adesso mi giro mi fermo provo prima con edge a fare lo zoom zoom mi fermo a 4 per anche se arriva fino a 8 per sia edge sia flat di s6 ecco qua adesso zoom con iphone fatto e zoom anche con m9 ripeto video che ho girato in parallelo da flat torno a 0 s6 torno a 0 iphone 6 torno a 0 e m9 torno a 0